Ben trovati dal Tg della Mobilità, venerdì trasporto pubblico a rischio anche a Roma per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato USB. L'agitazione interesserà sia le reti ATAC che Roma TPL. Il servizio sarà comunque regolare durante le fasce di garanzie dall'inizio del servizio diurno e fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. In centro, cantieri via di San Basilio e modifica di percorso per 9 linee di bus. Di giorno, cambio di percorso per le linee 61, 62, 85, 492 e 590. Da via Veneto raggiungono Porta Pinciana e poi tornano verso Piazza Barberini. In centro, reperta via del Teatro Marcello in direzione di Piazza Venezia. E' terminato il cantiere. Tutto per questa edizione del Tg della Mobilità.